Tu la pagherai per il male che hai fatto? Non avresti dovuto, è stato un errore! Tu la pagherai per il male che hai fatto? Gohan, torna immediatamente sulla Terra e porta con te Junior. Io sento che c'è ancora vita, Ian. Devi andartene da questo pianeta prima che sia troppo tardi! È un ordine, Gohan! Sì! E adesso a noi due. Sì!